musica 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 ciao a tutti ragazzi a un pnm prank oggi facciamo le vlog nel posto musica come ti chiami? sono malichini vlog iscrivetevi al mio canale che arrivo alla quantità di iscriviti di canali di me iscrittivi iscrittivi vai guardate sti due coglioni stavamo andando a comprare dei titoli di stato e ci siamo trovati in modello e wampi dai vai fai intuco luca entra io sono amici un ongolo c'è un po' entrare e non si ricorda solo bravo ma tu è in canale dico è diventato da venerdì solo che non so ragazzi guardiamo un attimo allora al foglio guerra c'è la partita che non è venuto guarda che quando mai oh ragazzi guardate quanto è bello quanto è bello che tipo foto si chiama e guarda che mia mano il caffè l'affitto Stai nel giro con uno spoglio, con montagne, rocchi di merda, risi. Camera meno attento! Quanto era il telefono di Peggy? E' un osso! Che cazzo è? E' un osso! Che cazzo è sta merda? Questo si che si chiama osso. Che merda di lancio. Ragazzi, questo è l'abitat naturale dei Besatesi perché... Aiuto! E' l'abitat naturale dei Besatesi perché i Besatesi sono solo campi, come la dieta... E calabresi. Campi. Qualcuno vuole qualche cosa? Terroni. Poi ci sono posti di merda. Colombiani. Colombiani, peruviani. Peruviani. Posti vigiosi come quello. Sicolo allora, l'acqua è alta così. Vedi. Sicolo allora, l'altra è alta così. L'altra è alta così. L'acqua è alta così. L'acqua è alta così. Che ti ho rotto il labbro. Mi sa di calabro. E' di te? Di Anto. Eccomi là! Vediamo il salto di Nicolò. 3, 2, 1... Qua ragazzi, venite a vedere le tane dei Terroni. Guardate. Qui abita Antonio. Le tane dei Terroni. Guardate. No, è la tua. Dei terroni qua. Dei Colombiani. Dico. 1P. Adesso vi porteremo in un posto magico. Guardate. Ragazzi, non siamo ancora nel posto magico. Perché Rodri deve andare. Adesso Rodri darà la magia. Metti la mano che arriva nel posto magico. Posto magico. Guardate. Il posto magico. Heidi. Buca giù. Che branco di coglioni. Ok. Se volevo andare indietro è caduto. Che regalo spastic. Come noi. Ti salvo io! Che mongoloidi. Quanto sono problematici Sti due Nicola sembra un uomo nero E' tutto nero Chi vincerà la scalata Chi vincerà Però Nicola è in vantaggio Però Nicola si trova in un punto epico Che finirà male Nicola è qua E Wampi ancora indietro Nicola E Nicola vince E io come faccio a salire E poi c'è il telefono Vieni via Di chi è la Tana? Un 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 po' di qualche animale Del clima Besate Nord Nord Padale Dura 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 Di come sta sempre Albi Per non farti Questo vlog è un po' disagiato Un bastone epico Finirà male quindi Che cazzo fa Che cazzo fa Aspetta quello è troppo peloso Aiuto Wampi sarà merda Mi chiede Mio sta battendo contro Ecco il mio Vai Nico sto filmando Attento Vai Nico ciuccio Tieni Wampi Sono la testa in scala No Wampi mastardo Antonio Dove Sei Lo russo ti ammazzo Niccolò è qui dentro Lasciamo Mattia Andiamo a vedere Niccolò Le russo è qui dentro Le giostre raga Oh che cacchio fa Attenzione Guardate gli occhi di Niccolò Sono rossi Sono uno russo Segnalateci il video raga perché Guardate i miei occhi Guardate i miei occhi Il video finisce qui Lasciate like Lasciate almeno 20 like per questo vlog Lasciate un commento Che finirà male E bella Terremoto E bella